Un paese in festa, è proprio il caso di dirlo perché Nello Milani ha festeggiato le 100 candeline sulla torta insieme a parenti, agli amici, ma soprattutto all'intera comunità di Albergo e d'Oliveto. La carta d'identità non mente recita 3 dicembre 1914. Per Nello Milani è stata davvero tanta l'emozione nel vedere tanti volti familiari nei locali della Polisportiva Albergo e Oliveto dove la famiglia ha organizzato la festa di compleanno alla quale hanno preso parto il 300 invitati tra cui il sindaco del comune di Civitella in Valdichiana, Ginetta Menchetti che ha portato il saluto e gli auguri dell'amministrazione comunale che ha omaggiato nell'occasione Nello Milani con una targa con dedica. Cresciuto nei pressi del paese di Albergo nel comune di Civitella in Valdichiana Nello Milani ha trascorso la sua vita lavorando nei campi. Ho frequentato la scuola di Oliveto fino alla terza elementare e poi a 18 anni sono tornato sui banchi per prendere il diploma. Ama ricordare Nello che nel 1939 venne chiamato sotto le armi e con la divisa dell'esercito italiano fu in Africa e più precisamente in Libia dalla quale tornò nel 1943. Oggi Nello oltre a tenersi sempre impegnato con lavoretti intorno a casa coltiva una grande passione per la lettura tanto davvero una piccola biblioteca personale incentrata sui fatti e personaggi della seconda guerra mondiale. Insomma se non fosse per il bastone con il quale si aiuta di tanto in tanto per camminare in pochi crederebbero che Nello Milani ha compiuto 100 anni. A Nello e alla sua famiglia di nuovo tanti auguri da parte della nostra redazione. A Nello e alla sua famiglia di nuovo tanti auguri da parte della nostra redazione. A Nello e alla sua famiglia di nuovo tanti auguri da parte della nostra redazione.